che da lì questa posizione è dal limite è dal limite l'ho detto a Michele di stare addosso perché quello soffre i preveniti e allora ma chi è che sta a battere? è Lele vuoi mandare qualcun altro la distanza la distanza la distanza a 9 metri chiedi la distanza 5 euro un anno 10 euro 10 euro 10 euro 10 euro vale